L'accordo tra la Ransay e la società francese che gestisce l'ospedale Madonna del Popolo di Dominia e l'ASL ha compiuto 20 anni. Oggi è una data storica, 29 luglio. Varebbe da dire buon compleanno. Grazie. Come ha detto la dottoressa, sia è un compleanno e anche come una festa di lavoro. Vuol dire che abbiamo passato tutte le tappe e siamo stati in grado di fare veramente una collaborazione proficua per entrambe le parti. E' veramente oggi una grande soddisfazione di essere arrivato a questa stabilizzazione e di poter guardare il futuro molto più serenamente. Per una società come la vostra, che è una grande multinazionale, che cosa ha rappresentato questa esperienza in Italia a Dominia? Allora, è molto importante. Pursia unica in Italia, è l'unica facilità che abbiamo qui in Italia. Noi abbiamo come moto di migliorare la salute innovando costantemente. Innovare vuol dire mettere nuove attrezzature tecnologiche, ma anche innovare dal punto di vista gestionale. Si ricomincia, si riparte insomma con un entusiasmo che forse un po' di anni fa non era così facilmente prevedibile. Sì, oggi è una gran giornata perché siamo riusciti a trovare le regole, lo spazio e le modalità di funzionamento idonee per questo soggetto giuridico, che è una cosa assolutamente specialissima nell'ordinamento, che è sopravvissuto ad una fase sperimentale a cui altri non sono sopravvissuti. Noi siamo in questo momento, credo forse, l'unica realtà che da sperimentale è stata consolidata e con degli ottimi risultati tecnico-gestionali perché in tutta la durata della sperimentazione e anche adesso in termini prospetici abbiamo tutte le possibilità di fare degli ottimi risultati in termini anche di efficientamento economico. Tra l'altro il socio privato che noi abbiamo la fortuna di avere è un socio privato di altissimo profilo internazionale, ha nel suo DNA quello che noi riteniamo essere un elemento fondamentale della conduzione dell'attività sanitaria che è l'innovazione continua, ha dimostrato di avere capacità propositive e di gestione di ottimo livello, grande collaborazione, grande attenzione ai bisogni del pubblico.